Buongiorno amici di ByteorApple, nelle scorse ore abbiamo assistito al rilascio del jailbreak di iOS 9.0, 9.0.1 e 9.0.2 da parte del Pangu Team. Il tool si chiama Pangu 9 e permette di eseguire il jailbreak su tutti i dispositivi che supportano iOS 9. Andiamo a vedere in questa video guida come eseguire la procedura. Non è una procedura difficile come sempre, ma vi invitiamo a seguire passo passo tutto il procedimento che vi mostreremo per evitare degli errori. Le prime cose che vanno modificate le dobbiamo andare a modificare direttamente sul telefono o sull'iPad ovviamente. Andiamo nelle impostazioni e ci richiamo nella scheda di iCloud su trova il mio iPhone e disattiviamo trova il mio iPhone. Questo è essenziale, adesso inseriamo la password nel momento in cui vi avevi chiesto, è essenziale perché altrimenti il jailbreak non verrà eseguito. Seconda impostazione da modificare, ci richiamo in Touch ID e codice e disattiviamo il Touch ID e il blocco con codice. In questo caso io non l'ho proprio attivato perché ho appena eseguito il rebristino, ma dovete disattivarlo. Quindi disattivate qui, sblocco iPhone, usate ID per sblocco iPhone e poi disattivate il codice. Altra cosa che va abilitata, la modalità aereo, la attiviamo da qui, dal Control Center. E se non la attiviamo in questo momento verrà comunque richiesta successivamente da Pango. Ora passiamo direttamente al tool. Ci troviamo quindi su Windows perché il tool è disponibile solamente su Windows. In questo caso siamo su Windows 10. Speriamo che il procedimento non causi problemi perché anche per me è la prima volta che si va a eseguire questa procedura. Non l'ho ancora eseguita su nessun dispositivo, quindi è una prova sia per me sia per voi. Andiamo a eseguire la procedura a questo punto. Un momento che salvo la foto. Ok, perfetto. Andiamo a eseguire la procedura. Iniziamo cliccando su Start. Ci viene subito detto di il jailbreak potrebbe portare una perdita di dati. Quindi eseguiamo un backup prima di eseguire il jailbreak. Io in questa cosa l'ho eseguito ma poi ho fatto il ripristino e sono ripartito da zero. Perché, come diciamo sempre, è meglio ripartire da zero nel momento in cui si va a eseguire un jailbreak per evitare di portarci dietro file e problematiche che potremmo avere con un precedente firmware. Abilitiamo la modalità aereo e l'abbiamo fatto. E vabbè, c'è scritto anche che vi viene suggerito di eseguire un ripristino del dispositivo. Clicchiamo su Array di Backup e cominceremo la procedura di jailbreak. Vediamo un po' quanto ci vorrà. Siamo già al 15%. Allora, ah, ecco qua. Allora, sono state installate due applicazioni. L'applicazione di Pangu e l'applicazione di WWDC. L'applicazione di Pangu l'avevo già vista, che sarebbe stata installata. Avevo visto alcuni screenshot. Ma non pensavo che sarebbe stata installata anche questa seconda applicazione. Evidentemente viene sfruttata anche questa. Per il jailbreak. Si sta riavviando il dispositivo, come potete vedere. Pangu è in attesa che il dispositivo si riavvii. Siamo nel momento del riavvio. Ok, adesso ci verrà chiesto di sbloccare il dispositivo, abilitare la modalità aereo per una seconda volta. Più dei tytunes nel caso in cui si dovesse aprire, probabilmente si aprirà come è avvenuto in questo caso. Quindi sblocchiamo il dispositivo, abilitiamo la modalità aereo, ancora una seconda volta. Quindi abilitiamo questa modalità aereo. Ok, sta avvenendo il jailbreak per i provi, perché c'è scritto che sta inserendo i dati necessari, probabilmente. Siamo al 70%, ultimi preparativi. Ok, sblocchiamo il dispositivo e avviamo l'applicazione di Pangu. Pangu, eccola qua, l'applicazione, ci viene detto di accettare la possibilità che Pangu possa accedere alle nostre fotografie. Clicchiamo su accedi, clicchiamo su ok. Ok, sta continuando il processo. Siamo all'85%, ormai manca veramente poco. Ok, siamo arrivati, siamo in una seconda, siamo, si è aperta una nuova applicazione, probabilmente sarà l'applicazione delle foto. E ora si è di nuovo riavviato il dispositivo. Dispositivo di nuovo riavviato, non c'è già il jailbreak completato. Il jailbreak completato era scomparsa l'icona di Pangu e l'icona del WWDC. Riavvio di nuovo e qui è scomparso, quindi probabilmente vediamo un attimo, aspettiamo il riavvio e poi possiamo concludere e dire che abbiamo eseguito il jailbreak e che è presente anche Silvia sul nostro dispositivo. Aspettiamo un attimo il riavvio, intanto si sta riaprendo tutto, iTunes, tutto quanto, ok, chiudiamo. Vediamo un attimo. Ok, è presente Silvia, abbiamo eseguito il jailbreak e quindi possiamo concludere la nostra videoguida. E ovviamente vi invito a seguire il nostro sito nelle prossime ore perché ci saranno sicuramente rilasci di aggiornamenti del tool e quindi cercheremo di seguire i vari rilasci con articoli in cui inseriremo anche i vari bug che sono stati risolti. Ma soprattutto arriveranno i primi aggiornamenti dei tweak e sono tweak sicuramente interessanti visti le capacità di iOS 9 e dei nuovi iPhone. Chi ha la fortuna di averlo già acquistato potrà sicuramente usufruire di tweak adeguati e sviluppati appositamente per il nuovo iPhone. Per questa videoguida è tutto, quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo nella prossima videoguida.